La pagina dedicata al calcio, la Paganese con problemi difensivi contro la Regina, impegni solo sulla carta, abbastanza semplici invece per Nocerine e Cavese, ma vediamo tutte le novità nel prossimo servizio. Grazie a Donia sfoglia l'album e da un rapido controllo, si è accorto che sono più i mi manca che i tengo, almeno per quanto riguarda il pacchetto difensivo. Al Cibi è fuori per squalifica, di Conso fu out per infortunio, contro la Regina l'allenatore della Paganese dovrà inventarsi la terza linea sperando nella bravura di qualche elemento che sa adoperarsi comunque fuori ruolo. Di certo sabato pomeriggio potrebbero esserci piccoli problemi che l'allenatore dovrà essere bravo a mascherare, giocando magari all'attacco così da non mettere pressione sui difensori. Ecco quindi che Grassadonia potrebbe varare una paganese attrazione anteriore perché almeno dalla cintola in su i calciatori non gli mancano. Intanto è stato deciso che per le prossime due tappe interne di fine anno, sabato con la Regina e giovedì 29 dicembre col Matera al Torre, gli studenti delle scuole elementari e medie di Pagani potranno acquistare due biglietti, alunno più genitore, a un prezzo speciale di 5 euro, biglietti disponibili e acquistabili soltanto ed esclusivamente nella sede della Paganese in via Filettine. Paganese che poi avvierà anche il progetto Paganese Torna a Scuola con tesserati che saranno presenti nelle scuole del territorio. Tornando al calcio giocato la gara di sabato è stata affidata al signor Pietro Paolo di Modena. In Serie D invece due partite solo sulla carta, semplici per Nocerina e Cavese, i molossi reduci dal buon pari di Bisceglie, eppure ora lontani di 5 lunghezza dalla vetta per via del successo del Trastevere, dovranno tornare alla vittoria col Manfredonia, sperando in un passo falso concomitante, peraltro difficile da pronosticare, dei laziali. Il gruppo di Simonelli sarà rinforzato intanto nelle prossime ore con l'arrivo almeno di due giocatori, un difensore e un centrocampista, mentre appare sempre più probabile la permanenza in rosa dell'attaccante Ciotti che alla fine per ora non è passato alla Turris. La Cavese invece, tornata a soli tre punti dalla capolista Igea nel Gironesi, prepara la delicata ma non impossibile trasferta calabrese col Sarsale, che proprio nell'ultimo turno ne ha presi quattro in campagna dalla Sarnese. I metelliani dovranno confermare di aver messo da parte il momento negativo e di poter ambire al primato. Intanto è andato in scena ieri il match della solidarietà tra una rappresentativa dei tifosi e della Cavese. I ragazzi della Curva Sud Catello Mari hanno raccolto fondi per le popolazioni terremotate del centro Italia. La gara è stata peraltro molto divertente, col finale di 6-3 ovviamente per la Cavese i tifosi aquilotti hanno perso sul campo ma hanno stravinto fuori dal rettangolo verde. Sicuramente è qui questa edizione del nostro giornale, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.